Ma lo sai che ho scoperto che su GTA V il mio personaggio corre più del tuo? Non diciamo bagianate! Eh sì che così! È impossibile, non ci crederò mai! Sfidami allora e decreteremo chi è il migliore! Va bene! È difficile colpirti col flare! Lo schiva! Allora... Smettete di chiamarmi al telefono! Che nervoso! Boom! No! Dai, ma perché? Io allora... Mi hanno investito! Rieccomi! Rieccomi! Ah, vengo verso di te, guardami! Sì! Vai! Vai! Ho preso fuoco io! No! Feri Niki! Ragazzi, come va? Io sono Feri Niki! E io sono Steph! E questo è il mio nome di GTA V! E siamo qui con un nuovo episodio del si può fare! Prontissimi a provare tante nuove cose! Ad esempio una mossa di wrestling di Steph! Non ha funzionato! Non era una cosa da provare questa! Adesso sappiamo che Steph non può fare mostre di wrestling da un ombrellone! Un pugno in faccia te lo meriti, scusa! Va bene! Per questo terribile inizio te lo meriti! Allora, oggi proviamo quattro cose! Ok! E ne abbiamo due con il labirinto! Mi sono ispirato un pochettino dopo che abbiamo fatto quella challenge! Mi è venuta l'ispirazione del labirinto! Esatto, ci sono diverse cose di cui sono molto curioso! Dopodiché proveremo a vedere se davvero il tuo personaggio può correre più veloce del mio! E se funziona sta roba io mi arrabbio davvero tanto! Molto interessante da provare! E infine, l'ultimo sarà una cosa particolare che lascio diciamo come cosa non spoilerata! Va bene? Ok! Partiamo da quelle cose nel labirinto dato che siamo già qua! Allora, la prima cosa che voglio vedere è si può bruciare questo labirinto? Io dico di no! Secondo me queste foglie sono ignifughe, te lo dico! Perché sembrano fatte in cemento! Esatto! Vero? Allora, io sono sopra! Ok! Dici che provo qua? Sì, sì, inizia a metterlo tutto e fatti tutta una strisciata! Se brucia è la cosa più epica che abbiamo mai fatto su GTA 5! Io ci provo, eh! Se non brucia... Eh, peccato! Però è colpa di GTA se non brucia! Perché queste sono foglie e dovrebbero bruciare! Ho esagerato anch'io! Ho fatto una doppia striscia! Anch'io! Così proprio mi tolgo tutti i dubbi! Mettiamo la pistola! E voglio vedere se riesco a saltare qua! Oh yes! Bravissimo! Sei pronta? Sei pronto, sì! 3, 2, 1, vai! Aspetta, sì! Allora, ha preso fuoco! E fin qua va bene! Sta bruciando, eh! Vediamo un po'! Ha preso fuoco una parte che io non ho bruciato! Ah, no è la parte tua! Ah! No! Si è spento! Ah! Si è spento! Che delusione! Siamo sicuri al 100%? Eh, si è spento, che ti devo dire! Per un attimo ho pensato che potesse bruciare, perché ho visto la fiamma proprio espandersi, e quindi ho sperato che almeno, cosa ne so, metti per 5 secondi rimane solo le foglie bruciate o qualcosa del genere! Sarebbe stato epico! Capito? Sarebbe stato figo, invece no! Questo non funziona! La seconda cosa che vogliamo vedere è se la polizia ci segue dentro il labirinto! Secondo me no, perché si perderebbero! Il collegamento che abbiamo fatto è, dato che dobbiamo bruciare, sicuramente la polizia si arrabberà, vediamo se poi ci seguono! E quindi sono curioso! Ci sono arrabbiati? Sì, sì, io ce li ho, seguimi, seguimi! Ok, stiamo qua, e per ora ti dico che non stanno minimamente venendo! Sto sparando un po' per fare rumore, perché altrimenti li perdiamo, eh! Ti aiuto! Guarda che è una cosa incredibile se non vengono! Allora, aspetta, devo fare il rumore in qualche modo, perché se ne stanno andando! Per ora proprio è come se io fossi nascosto! Secondo me non vengono qui dentro, eh! Ho fatto esplodere, ok, 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 ok! Ok! Se non entrano è epico! Ottimo nascondiglio, anche questo, come i cespugli, capito? Andiamo! Sono proprio ottimi modi per scappare dalla polizia! Dove sono? No, ok, sono dentro il labirinto! Sono dentro, sembra di giocare a Paco, da come stanno correndo! Però li abbiamo asseminati! Davvero? Sì! Ho perso non una, ma due stelline! Vado a caccia di poliziotte, aspetta! Adesso io me lo trovo di fronte e mi viene un infarto! Ammazzata golf! Ok, adesso gira l'angolo! Aiuto! Non è la fucile a pompa, però! Mi ha ucciso! Ok! Abbiamo appurato che entrano, che il labirinto non è come i cespugli! Però! Però! Allora, io ho asseminato due stelline con loro che erano tutto intorno! Quindi diciamo che è comunque un ottimo posto dove nascondersi per la polizia! Secondo me, se non gli vai incontro come hai fatto tu e continui a girare nel labirinto, riesci a scampartela! Sì! Ma ci siamo dimenticati che tu ti dovevi vestire per i prossimi tre episodi avendo perso la challenge, cara mia! Abbiamo subito rimediato! Dai, esci fuori! Non parlo, no! Dai, dai, vieni! Non lo scendo! Da! Io così vestita non vado in giro per tre episodi, ok? Te lo dico, perché il mio spirito da gangsta non può essere, capito, corrotto da questi vestiti stupidi e brutti! Allora, io pensavo che avrei trovato qualcosa, ma non di così brutto, ragazzi! Cioè, io non ne ho mai visto una cosa così brutta! Oltretutto con i tatuaggi che abbiamo, cioè... Ancora peggio! Proprio giorni e notte! Dai, scendi! Vado! Devi accettare la sconfitta! I consolini non mi guarderanno più come la stessa! Non puoi! Devi accettarlo! Come posso andare in giro vestita, capito? Anni venti, adesso, con questi tatuaggi, con le armi, non c'entra nulla! Cioè, guardami, non c'entro nulla! Cioè, cosa c'entro? Non c'entro nulla! Sei bella a modo tuo! Allora, dai! Dobbiamo capire se funziona! Con questi tacchi non posso correre! Vieni qui! Sono scomodi, ok? Ce li avevi anche prima i tacchi! Ma quelli erano comodi! Vai! 3, 2, 1, corri! Vai! Vai! Eh, ma tipo alla grande, corro più di te! Ma insomma! Siamo uno a fianco all'altro! Dovreste andare un bel po' più veloce! Continua dritta, continua dritta, continua dritta! Continuo, continuo, continuo! Ma a me non sembra! Non so te! La sabbia! Che dici? Oh! Ho il dubbio! Non riesco a capirlo! Ma che belle scarpe! Ma dove le comprate? Ma mi stai sempre dando pugni oggi! Te lo meriti! Cioè, stanno ancora peggio così! Allora! Ancora peggio! Anche se in discesa, andiamo per dritti così, quindi vediamo se sono i tacchi e vediamo se almeno così vai più veloce! 3, 2, 1, corri! Vai! Ok! Nulla! Sto correndo! Niente! Io non ho parole! Perché non funziona questa cosa? Adesso? Io faccio vedere! Guardate! Lui parte! Lei parte in ritardo! Guardate quanto lo semina! Guardate quanto va più veloce la signorina rispetto a lui! È una roba incredibile! Spiegatemi perché a noi non funziona! Vorrei proprio capire perché a noi non funziona! Sinceramente sono senza parole! Non lo so! Sempre a noi non funzionano le cose! Non lo so! Vabbè! Andiamo a fare l'ultimo che almeno quella è una figata! Ok! E se manco quello funziona adesso all'improvviso, ti giuro che cancelliamo la serie! Ah te lo dico! E la chiamiamo GTA non funziona! Esatto! Un bel titolo! Signore ma se ne rende conto che a noi non funziona mai nulla? È una roba incredibile! Vero? Vero? Ma lo sai che abbiamo una sfiga che davvero? Cioè che se glielo raccontiamo lei non ci crederà mai! Sai quando uno ti racconta quelle cose assurde che però sono vere ma nessuno ti crede così! Ci stiamo comprando i razzi di segnalazione signore per provarne un'altra! Guarda io le dico che se neanche questa funziona veniamo a lavorare per lei nel negozio! Ci vuole? No! Non è convinto! Dice che... È diventato serissima! No dice che gente vestita come te di solito la prende a pugni! Non mi puoi picchiare qua! Non ti posso dare a pugni qua! Picchio il negoziante allora! No neanche! Ma la prendo con lui! Guarda che ti spara! Allora dai usciamo e andiamo a provare l'ultima cosa! Ok! Ci servirà il nostro amato elicottero quindi sfruttiamo l'elicottero che è scomparso! Perché adesso gli elicotteri scompaiono! Abbiamo scoperto una cosa! Gli elicotteri scompaiono! Una cosa che funziona hai visto? Sarà noi però! Signora se ne rende conto che è scomparso l'elicottero? Lo sa? Signora vuole correre per vedere se corre più veloce di noi? Lo sa? Non lo sa! Provi a correre signorina! Vada vada vada! Vai 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 vai! Ok corriamo tutti! E la supera però! Almeno lei! E noi siamo più veloci vedi? Almeno qualcuno lo supera! Non ci provare guarda ti ho visto! Ti ho visto! Vediamo se dopo che ti incentivo corri più veloce! No! Mi è mancato! Lasciami in pazza! Fai da brava! Fai da brava dai! Solo perché le munizioni delle lanciarazzi costano tantissimo! Lo so! Costano tantissimo! Chiamiamo un altro elicotterino! Ci trocca ammazzare un altro pilota! E proviamo l'ultima cosa! Se anche questo non funziona ci ritiriamo per davvero! Allora praticamente esiste una cosa col paracadute! Che praticamente! Se io sparo due paracadute! Con la pistola normale! O con un fucile! Qualunque cosa sia! Ok! Non ti posso distruggere il paracadute! Ma ti posso diciamo sbalzare un pochettino! Ok! Ok! Se invece sparo con la pistola del... Del fler! Del fler! Chiamiamola la pistola del fler! Si è lanciato! Si è lanciato! No! È troppo presto! Fallo! E no ma non faccio il tempo! Niente che avevo la pistola ho preso una macchina per sbaglio! Mi hai fatto panicare! Ma dai! Ma dai! Ma che succede oggi? No non ce la faccio più! Te lo dico! L'hai spiegato malissimo oltretutto! Cioè si è lanciato! Allora! C'è un paracadute! Lo sparate con le pistole e con i mitra! Non si rompe il paracadute ma si sbalza un po'! Lo sparate con il fler! Il paracadute scompare! E la persona casca a pesce e muore! Quindi è utilissimo pure! Questo è l'unico che si può fare utile nella vita! E quindi dobbiamo vedere se funziona! Ovviamente per qualche player non si sta... Eh! St'arrivando un player dall'alto! Ma non posso salire su qualche palazzo così mi butto quando mi pare! No! Prontissimi! Si butti! Vado! Vado! Allora! Dove stai? Lanciato adesso il paracadute! Ok! Mi vedi? Sì! Stendendo troppo! Vedi ti ho sbalzato! Ti ho sbalzato! Ok! Quindi quello funziona! Cerca di venire verso di me! Eh ci provo ma non è semplice! Ok! Dove sei? Da questa! Eh sto girando in tondo! Quindi cerca di prendermi tu! Mi stanno provando a chiamare al telefono! Dannazione! Allora! Pim! No! Mi vedi? E ti vedo! E' difficile colpirti col flare! Lo schiva! Allora! Smettete di chiamare al telefono! Che nervoso! Boom! No! Dai ma perché? Mi hanno investito! Rieccomi! Rieccomi! Ah vengo verso di te! Guardami! Sì! Vai! Vai! Ho preso fuoco io! No! Perenichi! Perenichi! Ok l'ho colpito! Ok ha funzionato! Ha funzionato! Una cosa che funziona! Oh mio Dio! Ce l'abbiamo fatta! Ti giuro che stavo perdendo le speranze! Come ho visto io prendere fuoco! Ho detto no non mi dire che funziona! Non funziona! Io voglio raccontare! Ah che bello! Partiamo che neanche riesco a vederti e a spararti! Riesco a spararti! Mi investono e finisco sotto due macchine! Riesco fuori! Ti cerco di sparare e arriva la polizia! Ti metto fuoco! Quando un tanto così di vita riesco a sparare il paracadute e crolli mentre ancora stavi bruciando! Però questa? La scena più bella di GTA di sempre! Esatto! Cioè almeno ti dà più soddisfazione! E' stato bellissimo! Fantastico! Mi sono emozionata tantissimo! Come l'ho visto sparire! Sono stata felicissima! Guarda! Comunque è davvero difficile! Eh no certo! Io allora cercavo di frenare col paracadute! Ok! Ma non ti potevo venire incontro! Perché cioè lo sai che fa giri ampi! Ma poi so quanto odi il paracadute! Festeggiamo Ferenichi! Ti abbraccio! Mi è pure mancato! Cioè ma almeno prendimi dico io! Almeno prendimi! Per pochissimo! Peccato! Comunque secondo me questa... Sto facendo la persona me la ciorra! Fa molto con quei vestiti! Fai paura! Sì in tutti i sensi! In tutti i sensi! Guarda verso l'alto così faccio finta che non esisti! Dicevo che questa è valsa a tutti i fail di queste dello scorso episodio di GTA si può fare! È stata davvero 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 epica! Voglio dire che però secondo me anche questo è inutile! Perché per colpire con un flare un paracadute è più semplice cecchinare quello che sta scendendo sinceramente! Quindi decisamente! Adesso sappiamo che si può fare ma non ve lo consigliamo! Soprattutto perché quello col paracadute dovrebbe anche iniziare a venirti incontro! E se no non ce la fai! Anche! È un po' davvero complicata! Però ci sta! Ci sta! Noi non facciamo per forza cose utili e inutili! Vediamo giusto che si possono fare! Scusi! Mi è venuta in mente una cosa! Devo vedere se si può fare! Scusi! Si ferma! Deve collaborare! Posso salire nella macchina da qua dato che la macchina comunque è aperta? Non credo! Senza aprire lo sportello? Non credo! Mi sa di no perché se ne è andato! Esatto! Scusi lei scusi scusi stiamo facendo un test scientifico molto importante! Accetta! Vuole partecipare? Vuole partecipare! Grazie grazie! Sì ma non dè! Scusi non ha capito! Scusi non ha capito come funziona! Allora le spiego meglio! Venga qua! Ti ho sparato! Ti ho sparato la mia gamba! Scusa! Buongiorno lei! Vuole provare un test bellissimo? Lascia i baci! Vediamo! Vediamo! Io assalgo sulla macchina! Vado qua e premo F! Non ha senso! Se la macchina è aperta vuol dire... Non deve aver senso! Fatti gli affari tuoi! Capisci! Vai via! Perché vedi? Sei stanco! Vattene! Vedi? Non va bene! Non va bene! Sali sali! Andiamoci via! Il luna di miele dato che sei vestita così! Non voglio salire! Non voglio stare in macchina con te! Certo che vuoi stare in macchina con me! Guarda come guido bene! Guarda abbiamo anche il caffè in macchina! Lo vedi? Sì! Di Starbucks! Per festeggiare il vetro un po' rotto ma sono dettagli! Dai quindi ci fermiamo così per questo espisodio! Speriamo che vi sia piaciuto! È stato davvero divertente! Soprattutto testare l'ultima cosa col paracadute è stato super epico! Prossimo episodio cercheremo un altro po' di cose da testare! Magari ne facciamo uno con tanta roba! Invece che quattro magari proviamo tipo un otto però cose un po' più veloci! Ci può stare! Vero? Così facciamo un episodio un po' pazzerello, un po' strano e vediamo un pochettino! Beh ragazzi inizio così lasciateci un like! E se è la prima volta che ho visto il nostro video potete considerare l'idea di iscrivervi per non perdervi gli altri episodi! Ciao e alla prossima! Ciao e alla prossima!